signori da questo momento ogni partita potrebbe essere l'ultima ogni puntata potrebbe finire come un'esonera già anche questa stessa potrebbe finire così è una lotta contro il tempo lotta per resistere lotta per restare in gioco questa carriera su questa panchina signori benvenuti su fifa ovviamente 3 carriera difficoltà adesso leggenda del palermo del nostro palermo ci troviamo a giocare fuori casa contro il napoli non so adesso come faremo presumo che sia forse più giocabile la carriera non lo so vedremo te smette ha preso un punto però la del 89 e va bene abante ok tante cose vanno bene andiamo signori andiamo affrontiamo un napoli che sta sopra di noi a 52 punti siamo diciamo in una missione impossibile che quella intanto di arrivare a fine stagione è la cosa più difficile e magari è di arrivarci cercando una almeno una qualificazione in una competizione europea signori ci siamo ci siamo signori ci siamo 1 a 0 iniziamo benissimo prima azione primo gol un to una e alle e andiamo e andiamo signori e andiamo 1 a 0 dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi calmi stiamo calmi stiamo calmi stiamo calmi stiamo calmi stiamo calmi no no attenzione come come la para come la para benissimo allora venga qua gli dagliela smette 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 nori 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 lancia lungo cercherete smette ancora ok sto scarico niente rigore 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 come tirando a sinistra stavolta tira a destra bella di potenza vega 2 a 0 dai 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 signori dai 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 che ci siamo dai che ci siamo secca io comunque voglio far notare una cosa io ho caricato quasi al massimo di ore di potenza il risultato normale a volte scorse puntate da cateler tirava dei missili terra aria che andavano al triplo di sta velocità io ho caricato quasi al massimo è comunque lasciamo stare questo discorso ora noi siamo qui dobbiamo cercare il rimontone il super mega rimontone non sarà facile non sarà facile per niente però dobbiamo dobbiamo crederci questo è fallo mai un cartellino si poteva anche dare un cartellino in mezzo in mezzo attenzione da smette pro rovesciata va bene va bene comunque ci siamo dai che ci siamo signori dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi calmi stiamo calmi no ok ma male va bene come va bene come dai pare des bella smette tua niente ma non era fuori gioco non era fuori gioco non era fuori gioco porca mitere va bene va bene e partiamo pega 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 ma che porcata di passaggio è ma va bene il mass niente va bene dai 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 fai niente cerchiamo cerchiamo di chiudere questa partita cerchiamo di chiudere questa partita con una vittoria del genere sarebbe importantissima accorciamo di tre punti su una delle squadre su in colpa zona champions vabbè 2 1 stiamo calmi non è successo niente stiamo calmi stiamo calmi stiamo molto calmi signori stiamo molto calmi 2 1 siamo ancora in vantaggio non perdiamo in controllo piuttosto io faccio un cambio faccio ecco abbate per martinez facciamo staffetta un tempo l'uno fra abbate e martinez abbate abbate serve devo farlo crescere che appena abbate prenderà supererà martinez dove roll abbate diventerà titolare fondamentalmente questo è il motivo per il quale faccio entrare faccio entrare faccio entrare in campo anche se non c'è bisogno che in realtà c'è sempre bisogno c'è bisogno diciamo in prospettiva per far crescere abbate bella no miseria va bene va bene va bene comunque siamo concentrati servono troppo c'è noi ogni partita che no 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 madre dai come 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 calma calma come calma 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 Buntuna Buntuna Calderon in mezzo Niente Perché non ci va De Smet Perché non dà il cursore a De Smet Che la palla ce l'ha lì Porto d'armi De Smet di nuovo Lancio De Smet C'ero quasi C'ero quasi Ok No Bene Vega no 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 è troppo ritirato Io ho premuto che non era così defilato Ho premuto il tasso del tiro Che non era così defilato Poi sento un tiro come al solito A me Calderon Bravo Calderon Bravo Calderon Ripartiamo Buntuna Dalla Elmas Vai Elmas Vai a chiudere sta partita Elmas Vai a chiudere sta partita Elmas E dai 3 a 1 Dai 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 Elmas Ok Adesso Cambi Faccio entrare Musserati per Parare SFC Ok Va bene Poi attacco Cooper ha bisogno Richter ha bisogno Per Vega D'angelo D'angelo ne ho bisogno io Porca miseria Niente Mustrati niente Paredes Fai extra Cristea Cristea Avanti Avanti 72esimo Io voglio chiuderla Io sta partita voglio chiuderla Con l'attacco tutto fresco Attacco tutto fresco Tutto fresco l'attacco Voglio chiuderla Non mi basta il terzo Voglio il quarto Voglio il quarto Dai ragazzi Dai ragazzi Dai che E tu Bravissimo Nouri Abate 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 Mannaggia A te Abate Mannaggia A te Abate Ok Boris 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 C'hai Dovresti Accelerazione Piuttosto Alta Non si Nota No Kobe 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 Che ha parato Kobe Cosa ha preso Kobe Cosa ha preso Kobe Quelli che hanno C'hanno Fatto in Trapolitano Calma Manda via Ok Vabbè Vabbè Impara Kobe 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 La para Kobe Kobe Dai Calmi Non è Non è Non è Ok Va bene Qua No Ah giustamente D'Angelo Dalla Boris Poggia la Boris Salta Però Boris Boris Salta Ti prego Ti prego C'è la palla Di Potevi C'è L'uomo Che non salta Boris Però posso Dalla Cooper Cooper E Cooper La chiude E Cooper La chiude Dai 4 a 1 Dai Dai Cooper Dai Cooper Dai Cooper 4 a 1 Dai Cooper Dai Cooper Ok Ci volevano Ci volevano Sti 4 punti C'è 4 punti E magari 4 No 3 Sono 3 Sono sempre E solo 3 Questi 3 punti ci volevano Questi 3 punti ci volevano Assolutamente Ci volevano assolutamente Ci vogliono Come ci vogliono Tutti I 3 punti Di tutte le partite Cooper Cooper vuole fare una cosa bella Cooper però vuole fare una cosa bella Ma va bene Ma va bene Cooper ci prova Poco stesso Fa una cosa bella Non ci riesce Ma almeno ci ha provato Almeno ci ha provato Branco Branco Chudi Branco Chudi Branco Ma porto Darmi E Niente Niente E Lo stai Non Problemi Difesa Questo gioco Ci saranno Sempre E comunque Ma noi frega Cazzi Perché La partita L'abbiamo comunque Vinta Dai 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 Bene così Assolutamente Bene così 4 a 2 Intervista Dopo partita E Bene Ora noi Tipo abbiamo Tipo Sono tutte finali Adesso Adesso Praticamente Sono tutte Allora La squadra Prima di tutto Rivero Abbattuto Rivero Perché Abbattuto E Il giocatore È andato Tutto Dal primo All'ultimo E Rivero Capite il quarto Rivero Il quarto Abbiamo detto Ci siamo preparati Meglio Va bene E lo so Ok Piano piano Ci si riprende Dai Non stiamo seguendo i piani Non rompere Cosa che vuoi Quista due giovani Per la prima squadra Dentro due stagioni Schiera 10 partite In gara In corso Disponibili 40 Cosa Come Perché Che vuole Che cacchi Vabbè Comunque Allora Intanto avanziamo Preso conto Scuola primavera Andiamo a scuola primavera Che ci dice Niente La scuola primavera Ci dice Che abbiamo un giocatore Da vendere Ecco Ci dice questo Che abbiamo un giocatore Da vendere E qua Che mali il maz E Tu promuovi Questo poi lo vendiamo Anzi Anzi Io lo metto in vendita Già adesso Scusate un attimo Ok Ab rosa Lo metto in vendita Già adesso Scusate Noi abbiamo un sacco Giocato un prestito Al De Sonser cresce De Sonser in prestito Sta crescendo Bene così Non è un po' tutti Non è un po' tutti Ora Il Diz Abbiamo dato Allora Diamo che Molti di questi Probabilmente L'anno prossimo Si vendono Però Ora Il maz Dista da sferimenti È ok Pardo Cresce 83 Dove roll Bene Pardo Bene così Pardo Bene Così Pardo Ora Avanziamo Il maz Che ci dice Ci dice Allora Titolare Pronta Mi fa morire Vedere Cantè Quel Cantè Al centro Del centrocampo Del Sassuolo Mi fa morire Sta cosa Cantè al Sassuolo E Poesia E' veramente Poesia Cantè al Sassuolo Io Io non so Come Io non so Parlare D'amore In emozione In una voce Io Direi Una partita Esco Molto scontento L'ho capito Per una volta Giocherà lui Dai Rivero Rivero Col Sassuolo Dai Rivero Col Sassuolo Mi dice Mi dice Mi dice così Rivero Col Sassuolo Giusto Per farlo Contento Giusto Per farlo Contento Rivero Col Sassuolo Vediamo Se giocherà Tutta la partita O Solo una parte Dipende Anche da noi Dipende Anche Dalla squadra Se riusciamo Per qualche motivo A chiudere subito La partita Magari Potrei anche Pensare Di Intenerlo Tutta la partita Vediamo 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 Epo Alloverò Più basso Non è che è scarso Oh Mi smetto Va bene Sì bravo Bravo Sulle caviglie Del portiere Hai fatto Bellissimo Rinne Rinne La portiere Rinne Ci riproviamo E niente Mostrati Mostrati L'uomo L'uomo alto Che come se non lo fosse Va bene Allora Io direi Però No 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 Fa così Però voglio Ecco Oh Voglio 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 Provarci Eh Vega Ci voglio Provare Niente Niente Comunque Signori Partita iniziata Anche qua Come al solito Servono Servono I tre punti Tre punti E basta Servono I tre punti Nient'altro Dai ragazzi Dai ragazzi Dai Ragazzi Ok Ok Fai che Elmas Porca Scusate Mi stavo spegnendo Il pc Il pc Il tre vizio Bravo La puntura Elmas Smet 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 1 a 0 Dai 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 Smet Dai Smet Dai Smet 1 a 0 Ci siamo Ci siamo Ci siamo Calma Ok Raga Ok No No Eh Tegliona Però Evitarmi Però Devi darmi In difensore Porca miseria Devi darmi In difensore Devi darmi In difensore Devi darmi In difensore Ho due difensori In lato avanti Però vuole uno Per averne uno Qualsiasi dei due Non mi hai dato Nessuno Nei due E dai Questa è Questa è una carognata Questa è una carognata Senza senso Va bene Comunque Tu una Va bene Va bene Dai Va bene Benissimo No Ok Tuo 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 Parfetto No Rivero No Rivero 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 Sta cosa No Rivero Sta cosa No Rivero Ho tentato Pure via Rivero Rivero Madò No ragazzi Però ste cose No Però ste cose No Però ste cose No Però ste cose No Tuna Branco Che cacchio Ci fai lì Ma va bene Guardi Ha dato una palla Bellissima Oh Desmet Con la miseria Va bene Va bene Dai Va bene Oh Benissimo Vai Desmet 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 Dino Non Con Seria Mamma mia Rivero 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 Oggi Un c6 Piano Piano Ti faccio Docare Prima Pianto A giocare Un calma Ma oggi Un c6 Oggi Un c6 Rivero No Rivero Rivero Un tempo L'uno Facciamo A giro Facciamo A giro Facciamo A giro Mi metto A parte Dai Adesso Dobbiamo Appunta A vincere Ripeto Non Dai Torca Perché Ti hai provato Andare di testa Te smetti Dico Vabbè Comunque Lo te smette Niente Signori Ripeto Ci serve Solo Esclusivamente Una vittoria Ogni partita Non vinta Può portare Una tonne Siamo a sto livello Qua Ma che fanno Diamo il rosso Ah giallo Giallo Questo è giallo Questo è giallo Allora Questo è giallo Ok Va bene Questo vorrebbe essere L'arbitraggio All'inglese Più che all'inglese A scannaporco Questo sarebbe Rigore Per esempio No Dico L'ha fatto volare via E dico Allora Schlager Però non c'è nessuno Aiki Iki Così in mezzo Ok Angolo Va bene Va bene Primo palo In mezzo Testa Come che non angola Più di testa Non angolo più di testa I miei Io questo vorrei capirlo Ok Ok Cosa Ma posso capire cosa Manda via Manda via Meno male Meno male Meno male Meno male Meno male Manda via Ancora Cobble Ancora Cobble Ancora Cobble La stiamo soffrendo Ma porca miseria C'è 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 pardo C'è pardo C'è il nostro pardo Lì C'è il nostro pardo C'è il nostro pardo Lì Porca miseria C'è il nostro pardo Di qua Venga 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 Porca miseria Allora Primo palo In mezzo Abate 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 Primo palo Poi in mezzo Niente Poggia Elmas Niente Di qua Pega In mezzo Elmas Prova niente Smette Non è possibile Non è possibile Primo palo Primo palo Primo palo Primo palo D'angelo D'angelo Per un tuna E Mi serve Richter Richter per Vega Poi Poi Il resto Non lo so Il resto Non lo so Il resto non so È un ultimo cambio Poi L'ultimo cambio Ce la pensiamo L'ultimo cambio Benissimo Benissimo D'angelo No d'angelo No d'angelo Sei destro Sei Fottotamente Destro Perché Porca Una miseria Cambi Allora Polis Cristian a posto Di Elmas Andiamo Eh però No Ottantatesimo Fa troppo tardi Troppo Troppo tardi Troppo tardi Ce la che passala Di qua No 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 Dammi Dammi il giocatore Vabbè ciao Meno male Abbate Ok Elmas 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 Nessuno segue L'azione Raga Nessuno Segue l'azione Tranne d'angelo Che la tira fuori Eh Abel Tristea Entra A tempo scaduto Praticamente Allora Si fammela giocare Però In attacco Niente Aia Aia Io ve l'ho detto Ogni partita Che non si vince È È Possibile Esonero E questa Non l'abbiamo vinta Miglioreremo In attacco Molto impegnativo Due ottime difese Una volta Si può dire così La sensibilità è tutta mia Ok E minchia Siamo di nuovo Va bene Caldo Io ho offerto Cristea Cobb Voglio ringraziarla Tutto bene Finisce bene La ringrazio Prestazione autorevole Ok Classifica Vediamo come ti ho messo Settimi Quattro punti Dalla Roma E avanziamo Ok Loz Per Perché male il maz Va bene Va bene Quindi accettiamo Accettiamo Va bene Ciao Ciao che ball Ciao che male Scusate Scusate Che male Andrà via A fine stagione Adesso Adesso Con la Sampedoria Partito La Sampedoria Io voglio vedere Anche una Cassivica Con le squadre Sul quale Per ora Facciamo una corsa E La Roma La Roma Facciamo corsa Sulla Roma Facciamo corsa Sulla Roma Ragazzi Facciamo corsa Sulla Roma Va bene Comunque Partita con la Sampedoria Vediamo un po' Cosa ti riesci a fare Vediamo Terza e ultima partita Della puntata Con la Sampedoria 25 punti Non dobbiamo sottovalutare Sta partita Perché Perché Quei classici Trappoloni Che poi Che poi Costano In termini Di punti E di Stagione Concentrati Signori Concentrati Dai ragazzi Dai ragazzi Vega Però sveglia Dai ragazzi Vega Prova giro Niente Va bene Va bene Dai Ok Va bene Calma Bene Dai 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 1 a 0 Va bene Va bene Va bene 1 a 0 Dai Dai signori Dai signori Andiamo Andiamo a chiudere Sta cacchia di partita Dai signori Di qua Avanti Bene Lancia bello Untuna 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 Va bene Fa niente Dai Fa niente Bravo Musrati Hermas Ok Bella Palla Mamma mia Mamma mia Bellissimo E' 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 Dai 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 Signori Dai 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 Desmetto Bella lì Bellissima Palla di Vega E Desmetta Al volo Al volo Desmetta Al volo Fulmine Al portiere Si ho capito Tutto meraviglioso Però ok 2 a 0 Bene 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 Sono un po' più Leggermente più tranquillo Non tranquillo del tutto Ma leggermente più tranquillo Leggermente più tranquillo Io Voglio chiudere Sta partita Io questa partita Voglio chiuderla Voglio chiuderla per bene Voglio chiuderla per bene Sta partita Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi Dai Dai Di qua Desmet 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 A giro Niente Va bene Va bene Primo palo Venga in mezzo Ok Allora No raga però No sti passaggi così Di qua Mezzo Trova Mussrate Addirittura No vabbè No vabbè No vabbè Se entrava Se entrava Se entrava Questa era d'applauso Va che roba Va che roba Vega Va che roba Vega Primo palo In mezzo In mezzo Vai Alex Tutta di testa Niente Rigore 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 Tira sulla destra Sulla destra No stessa Bello Secco Destra Niente Oh Porca miseria Non si può Incredibile Voi veramente Abbiamo problemi seri Noi sui calci Piazzati Sui rigori E busrati Ma i colpi di testa A voi vengono tutti centrali Perché io Io provo a indirizzare Su un palo Sull'altro Ma i tempi centrali Di tirare I miei Stati I miei Hanno il suo problema Di angolazione Di colpi di testa Perché non Non capisco Però No 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 Matti Mattinez Bravissimo Mattinez Ok Dai Tesmet Di qua No Peccato Era Era bellissima Era bellissima Era Bravo Branco Elmas Di qua E poi Io gli da di là È bellissimo Ma no Ma no Ma no Ma no Ma no Ma no Desmet Ma no Desmet Ma no Desmet Va bene Vai Comunque ci siamo Noi Campo ci siamo Potevamo chiuderla Potevamo chiudere Onestamente Perché ho giocato 2-0 Forse parossalmente Ci sta stretto Però Però dai Allora io Abate per Martinez E andiamo Io mai faccio turno Verso i due Che mi serve Tenerlo vivo Abate Mi serve Tenerlo Tenerlo Caldo Tanto lancio Elmas Ortolana Salta Elmas Niente Vabbè Comunque Signori 2-0 Portiamola a casa Portiamo a casa Stavittoria Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi Icky No 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 Allora caldo No Ok No Icky No E che è sta cosa Kobel 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 Mandavi a sta palla Bravissimo Nuri Nuri è tua Nuri è tua Nostra Vabbè Come non detto Nuri Nuri No Saltata Nuri Calma Calma No No 2-1 2-1 2-1 2-1 E 2-1 E questa non ci voleva E questa non ci voleva Dai signori Oh Non è successo niente Siamo sempre in vantaggio Siamo sempre in vantaggio Non è successo niente Che schlager Bravo schlager E dai ha preso la palla Non cominciamo Non cominciamo Dammi Schlager 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 Sì vabbè Sì 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 Credici Credici tantissimo Amico mio Credici tantissimo Tantissimo Vega 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 Chiudi la Vega Chiudi la Vega Fan Fanteria Fanberger Ok Deathmatch Benissimo Untuna 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 3-1 Dai 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 Dovevo fare i cambi Dovevo fare i cambi Dovevo fare i cambi Mantenere Parades per Munstrati Poi Boris Richter serve al posto di Vega Avanti Poi 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 E poi uno dei due Fra uno fra De Smet D'Angelo No Sì D'Angelo 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 Per Untuna Mi spiace sostituirlo dopo il gol Ma Devo fare così Possiamo magari giocare a Cooper Va bene Dai signori Dai signori Dai signori 3-1 3-1 Portiamolo a casa Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi D'Angelo Boris Bella per De Smet Dei gore Questa è chiara occasione da gol Io vorrei dire Vabbè Io lo diamo almeno al giallo E E Ormai C'è convenzione Che ormai Anche in caso di chiaro A catena gol Non si dà il rosso Ma Giallo Quello si Alla De Smet Batte De Smet Che venga uscito Niente Sempre Sempre A quella maniera Ma Sempre a quella maniera Io non Non so Veramente Non so che dire Io Come Come è possibile Sbaglio tutti Che mi Non sbaglio Mi parano tutti questi Perché me li parano tutti Schlager Da fuori Niente Va bene Dico Come è possibile Mi parino tutti Sti rigori È Incredibile Ovunque la tiro Non è che dici La tiro sempre a un lato Dove mi parano No no È ovunque la tiro Tira a destra Tira a sinistra Sempre sempre parato È un incubo È un incubo È un incubo Io non so come fa È un incubo Tanto boris 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 La sua la fascia Richter Angiru Richter Richter Dai 4 a 1 Dai Ale E ale Dai Va bene Va bene Io non ho visto Che ha fatto la Roma Io non ho visto Che ha fatto la Roma Non ho visto Che ha fatto la Roma Dovremo vedere Dovremo vedere Che ha fatto la Roma Dobbiamo mirare A meno posizioni Di coppia europea Perché Champions Allora Miriamo al sesto posto Per ora Sesto posto Perché non Non ti può fare altro Perché Champions Mi pare troppo lontana Mi pare Effettivamente Troppo Troppo Lontana Oggettivamente Però Sesto posto A meno Conferenza Non dico Non è facile Ma si può fare Si può fare Deve soltanto Eeeh Sì Eeeh Va bene Eeeh Scusi C'è Mi scusi C'è qualcosa Che non quadra C'è un po' Di C'è un po' Di C'è un po' Di calcio In questo Show in soccer C'è un po' Madre Santissima Cobble Però Pochino più deciso Ne riuscite Che ne dite Signora Sì Vabbè Quello Meno male Era leggermente In fuorigioco Quello Ma leggermente Ma poco poco Ma poco poco In fuorigioco Eh Cassusano Meno male Va bene Va bene Va bene 4 Abbiamo fatto L'abbiamo portato a casa Bene così Assolutamente Bene così Ci voleva Ci voleva Eeeh Forse Eeeh Allora Non siamo Secondi a nessuno Assolutamente no Intento di nuovo Merito dei ragazzi Assolutamente Ok Vedo troppo severo Non è vero Però vabbè Dai facciamo Facciamo i buoni Facciamo i buoni Facciamo i buoni E niente Continuiamo Sempre più La considerazione Sempre più in basso Sempre più in basso Come stop Trattative Scusa Scusa eh Come stop Trattative Ah Non è Non ha accettato Non ha accettato Bene Bene Eeeh Penso formativa Può essere ceduto Richter Vuole essere ceduto Richter Chiede la cessione Ma io no Ma io non voglio cederlo E ogni caso Non può succederlo Adesso Quindi Eeeh 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 Io spero Ci sono squad Voglio vedere Un attimo Una cosa Che smette No Che è tanto veloce No Quanto c'ha l'agilità 90 pure Che piede è Destro Modifiche Portata squad Che cosa ho modificato Non mi scusi Signor arbitri Signor Cosa avrei modificato Vabbè Comunque Eeeh Schemi in squadra No 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 Chiudiamo vedendo una cosa Potrei Potrei Una cosa Una cosa Una cosa Perché Eventualmente Se ci arrivo Per la prossima stagione De smette No Se piano di credito De smette Per dire Lo faccio a S 29 settimane Cos'è che sarebbe E tornare a T Ma a T A T Ci faccio Ci faccio Ci faccio Un gazzo da nulla Come a T Ehm Se cerchi Terveare esterno-sinistro Pardo può farlo Esterno-sinistro Che piede c'ha Pardo che piede c'ha E destro Ok Eeeh Porca Ok Boris Può farlo Boris può farlo Boris Boris Può essere la rinascita Di Boris Se io ti dico Di fare la S Tu quanto ci metteresti Due settimane Ragazzi Potrebbe stare La rinascita Di Boris Per il futuro Boris A S Boris A S Ah 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 Boris A S Magari Promuoviamo Eh no Non ce n'è nessuno Di pronto Dopo Hermas Vabbè Sono con sempre tre Momentamente in futuro Non adesso Comunque Signori Eeeh Criamo questa puntata E ci diamo Poi Tanto alla prossima A S